La questione rifiuti in queste calde giornate estive è sempre al centro del dibattito. Novità importanti da Prato la Serra, dove il sindaco Emanuele Auffiero con ordinanza ha organizzato una nuova gestione del ciclo integrato dei rifiuti, affidando la raccolta di tutte le tipologie ad un altro gestore e non più ad Irpini Ambiente. L'ordinanza è scaturita in seguito alla contrazione del servizio da parte della società Irpini Ambiente il 19 luglio. Con deliberazione di giunta comunale, si legge nell'ordinanza numero 75 del 1 luglio, l'amministrazione aveva provveduto ad attivare la procedura per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti e con delibera numero 74, sempre del 1 luglio, aveva dato mandato ai propri legali di intraprendere azioni legali nei confronti della società al fine di salvaguardare gli interessi dello stesso ente e dell'interno comunità di Prato la Serra. Tra i punti contestati l'assenza di un titolo giuridico valido, il mancato rispetto dell'obbligo della fornitura di sacchetti neri e biodegradabili, servizio che tuttavia è stato fatturato ed incassato dal 2010 a giugno 2016, la mancata corrispondenza al comune di Prato la Serra del contributo Conai, la fatturazione anche del servizio di spazzamento e l'incasso di alte somme per prestazione strane al servizio offerto. Alla luce di tutto ciò, l'amministrazione comunale ha cercato dal 2011 di regolamentare, stipulare un nuovo contratto con richieste di incontri e conciliazioni puntualmente non rispettate. Le modalità, gli orari di raccolta e il calendario settimanale, ha spiegato a Offiero, rimarranno immutati ed il servizio si svolgerà in maniera valida ed efficiente. I cittadini possono essere tranquilli poiché non ci saranno disfunzioni del servizio né abbandoni incontrollati dei rifiuti sul territorio comunale. Nelle sedi competenti faremo valere le nostre ragioni nei confronti della società Irpinia Ambiente. Abbiamo agito, ha concluso a Offiero, a tutela dell'ente, dei cittadini, della salute pubblica e dell'ambiente. Intanto sul fronte Irpinia Ambiente, creditore di un contenzioso di oltre un milione di euro verso il comune irpino, nella giornata di lunedì i vertici dell'azienda si incontreranno per decidere cosa fare. non è escluso che la società possa fare ricorso.